Il Ministero della Difesa algerino conferma la morte di 247 passeggeri e di 10 membri dell'equipaggio dell'Iliushin IL-76, schiantatosi in fase di decollo dalla base militare di Bufaric. A bordo, oltre a soldati e loro familiari, c'era anche un gruppo di 28 membri del Frente Polisario, un movimento armato che col sostegno di Algeri da anni si batte contro il Marocco per l'indipendenza del Sahara occidentale. Drammatico il racconto dei testimoni oculari dell'incidente. Abbiamo sentito una forte esplosione, poi si è vista una densa nebbia a coprire tutto. Abbiamo subito capito che si trattava di un incidente aereo e non d'auto. Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto corpi dappertutto. Un disastro assoluto. Il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Ahmed Ghaid Salah, ha visitato il luogo del disastro e ha disposto l'istituzione immediata di una commissione d'inchiesta per determinare le cause dell'incidente. L'aereo era diretto nel sud del paese, dove si trova un grande campo profughi che accoglie migliaia di cittadini sharawi in fuga dalla loro terra.